Allora eccoci quest'oggi 10 ottobre 2015 siamo su un costone alto qua da Fortale Greco come potete vedere dietro di me c'è Corio alla cima da Mendolea e da questo lato Roppudi mentre adesso mi giro facendo attenzione a non cadere perché è veramente alto, alle mie spalle c'è la parte di San Carlo si affacciava proprio sulla Mendolea ecco io sto facendo il giro vedete ecco la vista che si vede dal rione San Carlo della Roccaforta del Greco oramai disabitato così come stiamo documentando con tante con tante foto e qualche video la Roccaforta del Greco Luigi Palamara ecco questo godetevelo è veramente splendido